Ti faccio un esempio di triangolazione, ossia di un esempio in cui un genitore o i genitori triangolano il proprio figlio nel loro conflitto, generando prima di tutto un danno proprio alla persona che dicono di voler tutelare di più, ossia il loro figlio. Mi è successo recentemente di recarmi ad una cresima, una cresima di conoscenti a cui siamo stati invitati e io la mia famiglia abbiamo partecipato. Oltre al solito rito in chiesa ci si è poi spostati per un rinfresco in un locale. All'interno di questo locale, come da tradizione delle famiglie italiane, c'è l'apertura dei regali dove ognuno ha portato un pensierino e la festeggiata era lì al centro ad aprire i regali di tutti. I genitori della festeggiata sono genitori separati ormai da circa due anni e durante la varia apertura dei regali uno era posto la madre accanto a lei mentre il padre era posto di fronte a lei. Insomma arriva il fatidico momento in cui la festeggiata deve aprire il regalo del papà che ovviamente ha fatto un regalo che non è assolutamente gradito dalla madre, ossia gli ha regalato un bel cellulare di ultima generazione. Evidentemente tra i due madre e padre non c'era l'accordo nel regalare appunto il telefono, nel senso che da quello che poi ho capito insomma dalla situazione, il padre aveva già parlato con la madre dicendo che voleva regalare questa cosa e la madre era in totale disaccordo appunto sul fatto che la figlia avesse uno smartphone e allora di fatto la situazione non era rimasta in stalla, non si era più deciso niente. Insomma il padre decide che alla fine questo regalo va fatto e compra alla figlia appunto l'ambito smartphone che ovviamente insomma in quanto preadolescente desidera con tutta se stessa. Peccato che nel momento in cui viene fatto questo regalo, dalla scatola è evidente che si capisce insomma di che cosa si tratta, la mamma getta uno sguardo infuocato arrabbiatissimo nei confronti del padre, la ragazza lo vede, lo nota e si blocca, si blocca dicendo no grazie magari questo lo apro più tardi, ovviamente il padre sgomento nel senso che sa che appunto la figlia vuole lo smartphone e desidera che apprezzi il regalo, quindi in calza dice no ma dai aprilo davvero ci tengo, è importante per me che tu lo apra. La figlia è ingolosita, è evidente che vuole lo smartphone e vuole poterlo utilizzare, è altrettanto molto preoccupata dalla reazione della madre con la quale si capisce subito ha già avuto dei conflitti a riguardo, quindi si trova sostanzialmente in una situazione di impasto tale per cui non sa che cosa fare, da un lato c'è lo smartphone che gli ha regalato il papà che vorrebbe aprire, dall'altro c'è la mamma che è in completo disaccordo sul fatto appunto che questo smartphone le venga regalato e in più vede che tra i due si genera una tensione terribile perché il padre fa finta di non vedere la madre ignorandola, la madre continua a guardarlo come se avesse fatto la peggio cosa al mondo e lei si trova bloccata e quindi che cosa fa? Sostanzialmente niente, inizia a piangere, è bloccata totalmente in imbarazzo, non sa che cosa fare e la situazione degenera. Degenera è una perché? Perché è stata triangolata nel conflitto dei genitori, cioè non può aprire l'iPhone perché questa cosa di fatto genera un conflitto, genera uno sconforto, un disaccordo appunto con sua madre, dall'altro non può neanche non aprirlo, perché non può non aprirlo? Perché in quel caso danneggerebbe, le darebbe, urterebbe la sensibilità del padre, comunque la volontà del padre che era quella evidentemente di fargli un regalo gradito e quindi la situazione collassa, la ragazza inizia a piangere e i due si trovano in un imbarazzo ancora più grande ovviamente perché poi ci sono tutti i parenti, amici, conoscenti come me in questo caso eccetera, che a loro volta nel senso si trovano appunto in questa situazione. Perché faccio questo esempio? Perché questo è il classico esempio per cui il conflitto tra i genitori determina una triangolazione, cioè un coinvolgimento del figlio nel loro conflitto che di fatto più di tutti lede il figlio stesso, più di tutti danneggia il figlio perché probabilmente il padre ha sbagliato a regalare, a fare un regalo con cui, o meglio che non era stato concordato con la madre di sua figlia, cioè che non aveva in un qualche modo condiviso e che non era giunto ad una risoluzione, era evidente che tra i due non ci fosse accordo. Dall'altro la madre generando appunto questo clima di tensione non facilitando l'apertura del regalo da parte della figlia, altro non ha fatto che triangolarla e mettendolo in una condizione impossibile, in una situazione per cui comunque qualsiasi cosa faceva generava un conflitto e poneva lei nell'obbligo di doversi schierare con l'uno o con l'altro genitore, quando in realtà l'obiettivo probabilmente della ragazza era semplicemente quello di trascorrere una piacevole giornata con entrambi i genitori felici. Peccato che molto spesso gli adolescenti, i figli in questo caso, sono molto più intelligenti dei genitori e trovano una soluzione, in questo caso piangono, in questo caso si sottraggono appunto al vincolo e al giudizio legato all'apertura del regalo, perché? Perché veicolati dai loro genitori, perché cercano appunto di assumersi una responsabilità che non è la loro, ma al tempo stesso non possono sottrarsi dal conflitto appunto che i due genitori vanno a generare, quindi non possiamo venire qua a raccontarci che io faccio tutto per il bene di mia figlia, no io lo faccio più di te, piuttosto che... perché quello che si genera cos'è? Un conflitto in cui i figli finiscono inevitabilmente al centro e ai figli è chiesto di prendere una posizione che per loro è impossibile, quindi la ragazza ovviamente non si è più goduta la festa e i genitori inevitabilmente sono rimasti arrabbiati, ignari però del problema e del dolore che hanno causato alla loro figlia.